La mamma e il fratello di Jessica Lattuca, rispettivamente Giuseppa Caramanno e Vincenzo Lattuca non credono alla versione della presunta testimone che avrebbe indicato il loculo del cimitero di Favara dove sarebbe stato occultato il cadavere di Jessica, la giovane scomparsa da Favara dal 12 agosto dell'anno scorso. I familiari sono stati convocati dai carabinieri del reparto operativo di Agrigento per le audizioni svolte dal sostituto procuratore Paola Vetro, titolare dell'inchiesta, assieme all'aggiunto Salvatore Vella. Davanti al pubblico ministero sono sfilati Giuseppina Caramanno, la mamma di Jessica, lo zio Alessandro Caramanno e il fratello Enzo Lattuca di una vicina di casa Maria Stagno, ultima persona ad avere avuto un contatto con la giovane scomparsa. Gli interrogatori sono finiti alle 18.45 ed hanno avuto un inatteso fuori programma dato che proprio la signora Maria Stagno durante la sua escursione è stata vinta dal panico e si è sentita male. Concluso con qualche difficoltà l'interrogatorio, la donna, nello scendere le scale, è anche caduta ed è stato necessario chiamare i sanitari e l'ambulanza per immediati soccorsi e cure. L'interrogatorio della donna si è rivelato il più interessante, tenuto conto che dal suo telefono risulta nel traffico in uscita una conversazione della durata di qualche minuto verso il numero di Jessica. In un primo momento la donna dichiarò ai carabinieri che chiamò il cellulare della ragazza proprio perché fu lei a chiederglielo in quanto non trovava il telefono e che fece solo un paio di squilli. Invece con l'acquisizione dei tabulati telefonici sarebbe emerso che di squilli non ce ne sono stati, semmai una telefonata più lunga di uno squillo con tracce di conversazione. Entrambi i familiari di Jessica hanno rilanciato un altro appello, l'ennesimo rivolto alle persone che in qualche modo possono avere notizie utili al ritrovamento della ragazza. Sia la mamma, Giuseppe, che il fratello Enzo invitano alla collaborazione esclusiva con le forze dell'ordine poiché sulla misteriosa scomparsa della 27enne favarese sono state troppe le indiscrezioni che poi non sono state confermate dagli inquirenti. Questa ragazza che ce l'ha, che l'ha preso, poi tutte queste cose che sento con questa signora che dice che mia figlia è del cimitero, io non ci credo. Io ringrazio molto a queste carabinieri, alla giudicessa che stanno lavorando molto per mia figlia, io lo ringrazio molto. E ringrazio pure che mi trovo qua, a me non si scopisce meglio la verità. Io mi sono alleggerita di quello che gli ho detto, quello che sapevo di mia figlia, quello che non sapevo. Quindi io le ringrazio molto che mi hanno invitata. A me, a mio figlio e a miei fratelli. Giustamente uno non sa niente, Alessandro, perché non c'era la scomparsa di mia figlia. Vincenzo invece si è trovato perché mia figlia era là sotto con loro, con mio figlio, mio fratello e un altro mio figlio. Giustamente mi volevano sentire e sono qua per questo motivo. Io le ringrazio molto perché voglio sapere la verità che fin ha fatto mia figlia, che l'ha preso, che l'ha voluto male, dove l'hanno portata e dove è mia figlia. Sei viva e sei morta. Io a questa signora che ha fatto questa dichiarazione che mia figlia si trova dentro la tomba non ci credo. Sarà qualche spustata di mente oppure qualche complice. Non so cosa devo dire. Io comunque non ci credo. Come la super testimonia. Come la super testimonia non ci credo. Perché se l'autorità ci credebbe, sapebbe veramente che mia figlia si trova dentro questa tomba di questa signora, non aspetterebbe il giorno 7 per la tomba per vedere se c'è mia figlia. Subito ci dovrebbe andare, guardare se è vero o se non è vero. Siccome anche loro non ci credono che mia figlia si trova in questa tomba di questa persona, loro stanno lavorando per i fatti suoi, in segreto e fanno bene. Perché ci sono stati tanti pistaggi sopra di mia figlia. Io ho l'appello che lancio, invito a queste persone che come questa super testimonia di Milano, che è andata a Milano, di farsi da parte se la cosa non è a fondo. Come questa persona che è Gionosette che dice che deve aprire la tomba, che è mia sorella. Le invito anche a queste persone di non fare dei pistaggi, di starsi nei loro passi, di stare tranquilli, di fare lavorare solo l'autorità. Perché non abbiamo bisogno di sapere la tomba, noi vogliamo solo certezze. Intanto il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, il pubblico ministero Paolo Avetro e i carabinieri vigileranno sulla riapertura di un loculo del cimitero di Favara. Una testimone e un insegnante in pensione ha infatti riferito che potrebbe essere stato nascosto lì il corpo della ragazza ed accusa dell'omicidio anche un insospettabile. Il tentativo sarà fatto giovedì prossimo a spese della donna, anche se da fonti investigative si apprende che non viene dato molto credito alle sue dichiarazioni che comunque saranno valutate estendamente alla ricerca di riscontri. L'unico indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e soppressione di cadavere rimane Filippo Russotto, l'ex compagno e padre di tre dei quattro figli di Jessica.